Vivian ricordava bene l'appartamento che lei e Marie avevano condiviso con Jeanne nel Bronx. Ricordava il caos, i piatti sporchi nel lavello, i bioccoli di polvere negli angoli. Ma sopra ogni cosa, ricordava le liti furibonde tra le due donne, che nel bene e nel male avevano condizionato la sua intera esistenza. Vivian e Marie si erano presentate da Jeanne in un giorno di fine inverno, in cui il ghiaccio ancora urlava i vetri delle finestre e i rami spogli degli alberi si tendevano come dita nodose verso il cielo. Era il 1927. Marie fuggiva da Charles, un commesso di drogheria che aveva sposato per ottenere la cittadinanza americana e poter così sottrarsi a una madre che conosceva appena, ma con cui sapeva di non voler vivere. Dopo il matrimonio era nato un figlio, Carl, che li aveva subito messi dinanzi ai propri limiti come genitori. Ma era stato con la nascita di Vivian che Marie era fuggita dai continui litigi buttando poche cose in una valigia e, su consiglio di Eugénie, bussando alla porta dell'amica di sua madre con la figlia di nemmeno un anno tra le braccia. Una volta dentro, Vivian si guardò attorno con interesse. La casa le apparve spoglia, ma dignitosa, pochi mobili dall'aria spartana, una libreria tenuta con cura, alcune fotografie incorniciate alle pareti. Capì che Jeanne aveva trovato il modo di tenere a bada i propri demoni, che ci era scesa a patti, vivendo un isolamento tutto sommato privo di patimento. Pensando alla sua piccola stanza stipata di ciarpame, Vivian si rese conto che lei, al contrario, non sapeva sopravvivere negli spazi vuoti, avvertendo il costante bisogno di riempire ogni angolo e superficie per la paura di imbattersi in se stessa. Sedettero al tavolo della cucina e Jeanne accese una sigaretta senza smettere di guardarla. «C'è molto di Eugénie in te», disse, accennando un sorriso. Vivian rimase impassibile. Iniziava a pensare che non fosse stata una buona idea arrivare fin lì, se questo significava riaprire vecchie ferite e frugarci dentro. Passarono alcuni istanti. Le parve di sentire la cenere della sigaretta sfrigolare nel silenzio. Un uccello lanciava gorgheggi da un albero del giardino. Il sole era un disco di braccia oltre i tendaggi. «Cosa vuoi chiedermi, Vivian? So che non sei qui solo per una visita di piacere. E come lo sai? Me lo dicono i tuoi occhi. Sono rimasti gli stessi di quando eri bambina». Jeanne spense la sigaretta nel posacenere e spinse con la punta del dito gli occhiali che le erano scivolati sul naso prima di tornare a guardarla. «No, hai ragione. Sono occhi che hanno visto più di quanto posso o voglio immaginare. Sono gli occhi di un adulto ora, con tutto ciò che ne consegue. Quello che intendevo dire è che hanno mantenuto intatta la sete di conoscenza che li animava già quando eri piccola, e di questo sono lieta». Vivian nascosse la testa. «È passato tanto tempo da allora. Sono cambiate molte cose. Se tutto restasse uguale, non ti servirebbe quella...» disse Jeanne, indicando la rolleiflex. «Non sono sicura che sia questo il motivo per cui lo faccio. A essere onesta, non lo so nemmeno io quale sia il motivo. Lo faccio e basta». Jeanne incrociò le braccia sopra il seno. Indossava abiti ordinari, una camicetta bianca, una gonna grigia a pieghe e un piccolo orologio dal cinturino di pelle. L'unico tocco di originalità era dato da una spilla dorata che le chiudeva il colletto della camicia, una libellula dalle ali spiegate. Vivian pensò che le si addiceva. «La Jeanne di quando era bambina era stata una donna flessuosa e in perenne movimento, una creatura capace di librarsi con apparente leggerezza sopra i detriti della propria vita. È così che sopravvivono quelli come noi, Vivian. Trovano un mezzo per dare voce a qualcosa che altrimenti li ucciderebbe. L'arte non è altro che una perfetta forma di egoismo. Chi osserva ne trae benessere, talvolta, ma chi la crea lo fa solo e unicamente per se stesso, per non soccombere ai propri demoni. «Io non faccio arte. Qualsiasi cosa sia ti fa andare avanti, un giorno dopo l'altro». Vivian sospirò, mentre i suoi occhi seguivano le strade tracciate dalle venature del tavolo, strade che si incrociavano e sovrapponevano in un broviglio inestricabile. «Non sempre è così. Ci sono giorni in cui vorrei solo essere diversa, diversa da ciò che sono. Liberarmi di questa», disse, sollevando la roleyflex. «Sono i giorni in cui penso che non sia altro che una maledizione, questo mio inseguire». Lasciò la frase a metà, sentendosi all'improvviso insicura delle sue stesse parole, di quel suo spogliarsi strato dopo strato, lasciando esposta la parte più fragile. «Cosa? Cos'è che insegui, Vivian? Te l'ho detto, non lo so». Vivian abbassò lo sguardo. «Speravo potessi dirmelo tu. Sei l'unica persona che mi conosce, l'unica che sa chi sono». Jeanne si lasciò andare contro lo schienale della sedia, si sfilò gli occhiali e usò un angolo della gonna per pulirli, prima una lente e poi l'altra, con una calma che era solo apparente. Poi chiuse le stanghette e li appoggiò sul tavolo tra di loro. «Quando eri bambina, un giorno che tua madre ti aveva sgridato con più veemenza del solito, tu svanisti. Io e Marie impazzimmo nel cercarti. Pensavamo che fossi uscita in strada, che ti fossi persa tra la folla, che qualcuno già nascosse la testa. Ma tu ti eri solo nascosta molto bene. Per ore ti abbiamo chiamato, mettendo a soccuadro la casa, ma di te non c'era traccia. Quando lo hai deciso, sei riapparsa. Io non credo che tu stia inseguendo qualcosa, Vivienne. Credo che tu stia fuggendo da qualcuno. Ti stai nascondendo, come facevi da bambina. Solo che adesso ti nascondi dietro questa», concluse, indicando la macchina fotografica. Vivienne ripiegò le dita fino a stringerle in un pugno, rimanendo in silenzio. Le pareva che Jeanne avesse sollevato un lembo dello strato che la avvolgeva, come una scorza dura che difende dall'odio, ma anche dall'amore. «Anche tu ti nascondevi, Jeanne. Io mi ricordo dei giorni che passavi chiusa in camera tua, al buio. Pensavo che la colpa fosse mia. A volte mi guardavi e mi sembrava che mi odiassi. «Oh, bambina!» Jeanne tese il braccio. Voleva stringerle la mano, ma Vivienne ritirò i pugni verso di sé, senza sciogliere le dita. Le macchie di sole che avevano danzato sulle pareti si erano tramutate in ombre di fuliggine che offuscavano la vista. «Sì, anch'io fuggivo», ammise Jeanne, nel silenzio che era sceso sulla cucina come un velo, a smussare gli angoli, a rendere i bordi meno affilati. «Dai miei errori!» «Non da te, Vivienne. Tu sei stata un conforto, ma a volte era difficile averti per casa e non pensare...» Jeanne scosse la testa. Dalla tasca della gonna sfilò il porta-sigarette e l'accendino. La fiamma balluginò nel buio, gettando mezzelune scure sotto i suoi occhi. Il fumo uscì lento dalle labbra socchiuse, disegnando arabeschi, disperdendosi in filamenti. Ho avuto un figlio da un uomo. Ero giovane, troppo, e lui era sposato, ma non mi importava. L'ho amato come si ama ciò che non ti appartiene e mai ti apparterrà, con impetuosa sconsideratezza. Sua moglie ha accettato di prendersi cura del mio bambino. Lo ha cresciuto come fosse suo, come fosse loro. Io non ne ero in grado. La tristezza arrivava a tradimento, mi piegava le ginocchia, mi toglieva lucidità. Alla fine mi è rimasto solo il rimpianto con cui fare i conti. Rimasero a guardarsi, mentre le parole crepitavano attorno a loro, riducendosi in cenere. A Vivian parve di vedere i residui grigi depositarsi su Jeanne, sulle spalle, sulle mani, sui capelli, tra le labbra. Le parve una creatura millenaria, depositaria di segreti antichi e di troppi dolori, quelli che la gente non aveva il coraggio di confessare, nemmeno a se stessa. Non so dirti come, ma se sono ancora qui, se tutto questo non mi ha consumato, è perché ho avuto sempre una macchina fotografica tra le mani. Mi ha tenuto sospesa sull'abisso. Mi ha dato una ragione per esistere, nonostante tutto. Non sempre è bastato, e tu questo lo sai. Ho pensato tante volte di farla finita. ho cercato nell'alcol un rimedio per mettere a tacere il cane rabbioso che mi faceva a brandelli i pensieri. Ci sono stati giorni in cui alzarmi dal letto sembrava troppo difficile, e tutto quello che mi aspettava oltre quella porta troppo spaventoso. Giorni in cui mi sono domandata che senso avesse tutta questa sofferenza, ma ogni volta mi sono rialzata, perché ho avuto qualcosa che facesse parlare il mio dolore, che gli impedisse di sedimentare dentro. Attraverso la fotografia ho esorcizzato un mondo interiore che andava a pezzi. L'ho ricomposto, ne ho sotturato gli squarci. Io lo so che puoi capirmi, le tue ferite sono diverse dalle mie, ma il sangue è sangue, e quando soffriamo, soffriamo tutti allo stesso modo. È questo che ci rende umani. Vivian avvertì qualcosa a bagnarle il dorso della mano e con sorpresa si rese conto che era una lacrima. Non piangeva da anni, non ricordava nemmeno quando era stata l'ultima volta. Aveva sepolto ogni cosa dentro di sé, i sentimenti, le emozioni. Li aveva spinti giù, negli angoli bui, e aveva cercato di dimenticarsene. Sopra ci aveva buttato quintali di carta di giornale e altrettanti rullini che contenevano le storie degli altri, le loro trepidazioni, le loro vite. Ma lei, della sua, aveva tentato in tutti i modi di dimenticarsene. Devo andare, disse alzandosi. Viv, è tardi per tornare a Long Island. Fermati a dormire, ripartirei domani mattina, non ha senso mettersi in viaggio adesso. Io, mi spiace, devo proprio andare. D'accordo, non insisto. Jeanne si alzò per accompagnarla alla porta. Vivian, c'è una cosa che non ti ho detto, aggiunse, mentre Vivian, indossato il cappello, era già sulla soglia. Di me. Jeanne posò il palmo della mano contro lo stipite e, solo nella cruda luce dei lampioni per la strada, Vivian scorse per la prima volta la stanchezza del suo volto. La voce uscì flebile, quasi un sussurro. Ho un cancro ai polmoni. I medici dicono che non mi rimane molto. Un anno, forse meno. Mon Dieu, Jeanne. Jeanne sollevò la mano, ponendola tra di loro. Non te l'ho detto per avere la tua compassione, bambina. L'ho fatto solo perché era giusto che tu lo sapessi e perché avrei un ultimo desiderio, se mi hai concesso chiedere. Tutto quello che vuoi. Torna a trovarmi. Portami le tue fotografie. Voglio vedere con i tuoi occhi, Viv. Fammi questo ultimo regalo. Mi sarebbe di grande conforto. Vivian si morse le labbra. Era rimasta immobile, rigida. Non sapeva come avrebbe dovuto comportarsi davanti a una notizia del genere. L'esperienza le aveva insegnato a dire addio in modo distaccato, a strappare via il dolore del commiato con un gesto deciso. Ma Jeanne era colei che l'aveva creata, pur non avendola partorita. Jeanne era la madre che Vivian avrebbe voluto, anche se non era stata in grado di dirglielo né di dimostrarglielo. E non ne era in grado nemmeno in quel momento, in piedi davanti a una porta aperta, combattuta tra la voglia di rientrare e restare con Jeanne fino alla fine e quella di fuggire lontano per non sapere, per non vedere. Tornerò presto, te lo prometto. So che lo farai. Vivian camminò per le strade con il passo incerto di chi si è smarrito. Il buio aveva avvolto i profili delle case, in lontananza scorgeva le luci del porto, le navi ormeggiate che galleggiavano sull'acqua scura. Entrò in un convenience store, sovrastato da una scritta al neon a cui mancava l'ultima vocale e si aggirò come uno spettro tra gli scaffali che vomitavano prodotti dalle confezioni sgargianti. Giunta davanti alla rastrelliera con i giornali, sollevò lo sguardo e scorse la propria immagine nello specchio rotondo e convesso appeso in alto per dare modo al proprietario di sorvegliare la clientela. Attraverso la prospettiva distorta che le restituì il riflesso, si vide minuscola, una formica che avrebbe potuto essere schiacciata da un momento all'altro dalla suola di una scarpa ed era esattamente così che si sentiva, piccola, impotente. Mise la macchina fotografica al collo e inquadrò, non curante degli sguardi dei pochi clienti che, come lei, esorcizzavano la solitudine con confezioni di spaghetti precotti e barbon. Dopo aver richiuso la custodia della Rollyflex, afferrò una bottiglia di scotch dal ripiano di uno scaffale e si diresse alla cassa. L'uomo a cui porse una manciata di dollari spiegazzati le rivolse un'occhiata indifferente mentre infilava la bottiglia in un sacchetto di carta marrone. «C'è un telefono?» L'uomo sollevò il mento. All'angolo delle labbra aveva uno stuzzicadenti mangiucchiato che faceva roteare con la lingua. «Laggiù», disse, indicando uno sgangherato apparecchio telefonico vicino all'uscita. «Le servono i gettoni?» «Sì, grazie». Vivian sollevò la cornetta, fece scorrere il disco per comporre il numero e attese che una centralinista le consentisse di prendere la linea. «Casa Warren», rispose Dora, dopo che l'apparecchio ebbe squillato a vuoto per diversi secondi. «Sono Vivian». «Ah, sei viva! Qui tutti si stanno domandando che fine hai fatto. Puoi passarmi il signor Warren?» Vivian immaginò l'espressione contrariata di Dora, che forse si era aspettato una spiegazione da parte sua. Poi sentì i suoi passi allontanarsi e tornare poco dopo per riagganciare. Frank prese la telefonata dal suo studio. «Miss Meyer, iniziavo a credere che fosse scappata con l'argenteria. Sono nel Connecticut, ho avuto un contrattempo, rientrerò domani. Va tutto bene?» Vivian percepì l'esitazione nel tono di Frank. Chiudendo gli occhi le parve di vederlo seduto sulla scrivania, la cornetta tra il mento e il collo, mentre si versava un dito di liquore. Con la mano sinistra, Vivian strinse il collo della bottiglia attraverso la carta spessa che la avvolgeva, avvertendo l'insopprimibile desiderio di soffocare ogni cosa nell'alcol. «Io ora devo andare. Miss Meyer!» La voce di Frank si spezzò, diventò un sussurro che correva su cavi di rame, bruciando distanze. «Tornerà, vero?» Vivian riaprì gli occhi, fissando il metallo ossidato del telefono, là dove si era scrostata la vernice, mostrando le imperfezioni. Le labbra socchiuse, si ritrovò incapace di parlare, frastornata da qualcosa che credeva di aver amputato da sé e che invece continuava ad alleggiare come un fantasma, un disperato desiderio di appartenenza. «Miss Meyer, è ancora lì?» Vivian si coprì la bocca con la mano, il respiro affannoso. non voleva che Frank percepisse la sua paura, che capisse che più di ogni altra cosa nella vita aveva desiderato qualcuno che si preoccupasse per lei, di lei, come lui stava facendo in quel momento. Qualcuno che la volesse nella propria vita, nella propria famiglia. «Ci vediamo domani», disse e riagganciò senza dargli modo di aggiungere altro. Si svegliò con la bocca impastata e il mal di testa che le martellava nelle tempie. Sotto alle palpebre le sembrava di avere granelli di sabbia e quando provò ad alzarsi avvertì il proprio corpo come qualcosa di estraneo che non le apparteneva. Sedete sul bordo del letto provando a mettere a fuoco l'ambiente circostante. Macchie, vitre le danzavano davanti agli occhi. Li coprì con i palmi freschi delle mani premendo contro le orbite. Quando tornò a guardare riuscì a distinguere i contorni sfocati della squallida camera d'albergo dove aveva dormito quella notte. Ricordava a malapena di aver mostrato il proprio documento a una donna dall'aria annoiata prima di salire a piedi per quattro rampe di scale e richiudere in fretta la porta alle sue spalle. Tutto il resto si perdeva in una bruma pastosa di cui non conservava memoria. Vivien si sollevò urtando con il piede contro la bottiglia di scotch ormai vuota. Indossava gli abiti del giorno prima. La gonna era spiegazzata e le calze avevano una smagliatura che dalla coscia scendeva fino alla caviglia. Si scostò i capelli dalla fronte avvicinandosi alla finestra che spalancò respirando a pieni polmoni l'aria fresca e salmastra che arrivava dal mare. Il sole alto nel cielo le lasciò presupporre che aveva perduto un'altra giornata di lavoro e che giustificarsi con i Warren non sarebbe stato facile. All'improvviso la colpì come una frustata la consapevolezza di quello che era accaduto il giorno prima e le parole con cui Jeanne l'aveva messa a conoscenza della malattia le parvero la peggiore delle condanne. Tutto ciò che aveva amato nella vita si stava dissolvendo alle sue spalle davanti non aveva nulla. Vivian si voltò verso la stanza cercando la rolyflex con lo sguardo. Era appoggiata sul comodino con i polsi che tremavano si avvicinò alla macchina fotografica e la tolse dalla custodia fissando gli occhi nell'obiettivo. Non si erano mai trovate l'una dinanzi all'altra se non la prima volta quando un solerte commesso gliel'aveva porta attraverso un bancone di mogano scuro. Su quel bancone Vivian aveva svuotato le tasche del cappotto che quel giorno erano gonfie di dollari. Non li aveva voluti quei soldi ma erano diventati suoi e aveva ritenuto che il modo migliore per liberarsene fosse acquistare una macchina fotografica. Un'idea poco saggia ripensandoci a posteriori. assoluzione e pena convivevano in quel corpo di metallo e vetro solo apparentemente privo di anima così come convivono i contrasti inconciliabili. Vivian fece un passo indietro e sotto l'occhio vigile della roleyflex sollevò la bottiglia dal pavimento. Dopo un attimo di esitazione la scagliò contro il muro. Il vetro esplose in schegge e frammenti alcuni residui di liquore colarono sulla parete ma la sua rabbia rimase intatta. Non l'avrebbe diluita con l'alcol né l'avrebbe dissolta con la violenza. Era una rabbia antica la sua che non si lasciava domesticare ma davanti alla mano che tentava di blandirla snudava i denti con disprezzo. Era la rabbia di Marie l'unica cosa che sua madre le aveva lasciato in eredità. Dopo essersi calcata sulla testa il cappello sformato Vivian si infilò la roleyflex al collo e lasciò l'hotel. Camminò a passo spedito fino a un'edicola dove acquistò diversi giornali. Sul marciapiede lì accanto era seduto un uomo la camicia lurida e le scarpe spondate guardava fisso davanti a sé con occhi vacui tenendo in mano un torsolo di mela. Un sottile filo di saliva gli colava dalla bocca spalancata in cui si intravedevano le gengive guaste a cui erano rimasti attaccati ben pochi denti. Dai suoi abiti rigidi di sporcizia esalava un insopportabile tanfo di urina e fiori marci. L'odore della fame pensò Vivian l'odore della miseria quella a cui si cerca di restare indifferenti perché guardarla in faccia a quella disperazione fa troppa paura fa provare una colpa troppo grande. Vivian aprì la custodia della rolleiflex e inquadrò l'uomo poi dopo averlo fotografato si avvicinò e gli mise in mano una banconota da 20 dollari. L'uomo sollevò su di lei uno sguardo vuoto e sorrise la bocca una voragine scura da cui non uscì alcun suono. Vivian si diresse in una caffetteria prendendo posto a un tavolo accanto alla vetrata. Il locale era poco affollato. alcuni impiegati consumavano al bancone una coppia di adolescenti accanto a lei beveva un frappè dallo stesso bicchiere. Vivian aprì il giornale davanti a sé. Il ripiano del tavolo era appiccicoso. Qualcuno doveva averci rovesciato dello sciroppo d'acero. Stese con cura le grinze e iniziò a scandagliare le pagine in cerca di qualcosa che colpisse la sua attenzione. A pagina 4 si parlava dell'inaugurazione di un gigantesco parco giochi a Los Angeles Disneyland. La fotografia sotto il titolo raffigurava Walt Disney l'uomo che aveva rivoluzionato il mondo del disegno seduto dentro un'enorme tazzina da te mentre sorrideva soddisfatto dell'impero che si ergeva alle sue spalle. Vivian voltò la pagina e si imbatté in un caso di cronaca. Un uomo aveva strangolato la moglie occultando il cadavere nello scantinato del palazzo forse con l'intenzione di liberarsene al momento opportuno ma era stato scoperto prima a causa del cattivo odore che aveva attirato l'attenzione dei vicini. Vivian staccò con cura la pagina la piegò e la infilò nella borsa tornata a casa avrebbe infilato il foglio nel raccoglitore dove conservava tutti gli articoli che avevano a che fare con la follia umana con la crudeltà nella sua forma più pura. Era un modo per ricordare a se stessa che in giro vi era molta più disumanità che umanità. Una cameriera venne a prendere l'ordinazione e Vivian chiese un caffè amaro. Quando la ragazza tornò lesse il suo nome sulla targhetta appesa al taschino della divisa Mabel. Vivian scrutò al suo volto mentre lei gli posava davanti la tazza fumante domandandosi chi si celasse dietro quel cartellino quella divisa macchiata di ketchup e quel sorriso vuoto e professionale che probabilmente ogni mattina Mabel si cuciva addosso per non perdere il lavoro. Non è così che tutti andiamo avanti? Avrebbe voluto domandarle Vivian celandoci dietro una targhetta mentre ciò che siamo davvero lo dice il fondo dei nostri cassetti dove accumuliamo i segreti le tasche dei nostri cappotti dove conserviamo i fazzoletti usati e le cose di cui dovremmo vergognarci le pagine dei libri tra cui nascondiamo le lettere proibite dove schiacciamo i quadrifogli che non vogliamo vedere marcire perché qualcuno ce li ha donati affinché ci portassero fortuna ce ne stiamo nascosti dietro un'aria rispettabile camuffando tic e manie abusi e dolori che spaventerebbero chi abbiamo davanti se rivelati siamo così soli così distanti gli uni dagli altri mormorò gli occhi rivolti al giornale ha detto qualcosa domandò Mabel Vivian puntò l'indice verso un articolo qui dice che William Stratton il governatore dell'Illinois ha firmato il loyalty out act che impone a tutti i dipendenti pubblici di prestare giuramento di lealtà o perdere il lavoro alzò gli occhi verso Mabel la quale si limitò a una stretta di spalle qui non siamo in Illinois le serve altro no grazie prima di andarsene Vivian lasciò sul tavolo dieci dollari di mancia per Mabel per la solitudine che si portava negli occhi l'orologio che aveva al polso segnava le undici ci sarebbero volute almeno cinque ore per tornare a Long Island Vivian decise che tanto valeva prendersela comoda se i Warren avessero deciso di licenziarla avrebbe rimesso le sue cose negli scatoloni e se ne sarebbe andata non c'era motivo di affannarsi camminò senza una meta sudando copiosamente sotto il sole di luglio ogni tanto si fermava sollevando l'attesa del cappello e detergendosi la fronte con il fazzoletto girovagando giunse in prossimità di un cimitero e lì si fermò domandandosi se era quello il luogo dove Jeanne sarebbe stata sepolta pensò al viaggio che la sua amica aveva compiuto dalla Francia agli Stati Uniti in cerca di fortuna una fortuna effimera che le aveva portato solo di spiaceri Vivian ricordava l'articolo di giornale del Boston Globe in cui si parlava di Jeanne come di una giovane promettente fotografa in un periodo in cui la fotografia non aveva ancora esponenti di sesso femminile a rappresentarla eppure Jeanne aveva rinunciato a quello che sarebbe potuta diventare il talento lo aveva ricondotto nei binari di un più sicuro conformismo sopprimendolo Vivian passeggiò tra le lapidi leggendo gli epitaffi incisi sul marmo bianco ultimo lascito di chi era rimasto e attraverso la parola esorcizzava un dolore altrimenti muto in prossimità della strada scorse decine e decine di mazzi di fiori posati a terra alcuni petali mossi dal vento raggiungevano una bara bianca in attesa di essere inumata le dimensioni del feretro lasciavano supporre si trattasse di un bambino Vivian si avvicinò un uomo vestito di nero stava a chino accanto alla bara Vivian prese la roleyflex e senza bisogno di mettere a fuoco rivolse l'obiettivo alla scena che aveva davanti poco prima dello scatto l'uomo si voltò verso di lei indossava un paio di occhiali raiban dalle lenti scure ma lei riuscì comunque a intuire l'espressione dei suoi occhi che cosa vuole disse l'uomo le sembra il caso di scattare fotografie che cos'è una giornalista se ne vada Vivian scese il pendio della collina senza fretta a un cuore in pezzi nessuno si avvicini senza l'alto privilegio di avere sofferto altrettanto aveva scritto Emily Dickinson lei quel privilegio lo aveva dunque non provava il minimo rimorso nell'aver fatto suo un frammento del dolore di quell'uomo sul treno diretta a Southampton Vivian posò la fronte contro il finestrino aprendo e chiudendo gli occhi alla stregua del diaframma di una macchina fotografica e domandandosi se le immagini restassero impresse nelle sue retine come accadeva su una pellicola non era forse questa la memoria e lei lei era rimasta impressa negli occhi di qualcuno o quando la sua vita sarebbe finita se ne sarebbe persa ogni traccia chi sarebbe stato in silenzio e con gli occhi umidi accanto alla sua tomba chi avrebbe inciso parole dolenti nel marmo di una lapide affinché tutti sapessero che quell'esistenza non era stata vana che qualcuno l'aveva amata alla stazione di Southampton chiamò un taxi non aveva avuto voglia di fare una seconda telefonata ai Warren insofferente all'idea di dare spiegazioni inutili all'altro capo di un filo che le dicessero in faccia quello che avevano da dire si fece lasciare all'inizio della via procedendo a piedi per l'ultimo tratto di strada il sole del tramonto si rifrangeva sui vetri delle case gettava bagliori dorati sui tetti giunta in prossimità della villetta dei Warren Vivian sentì le familiari voci di Arthur e Grace che giocavano in giardino qualcosa le strinse il respiro un filo che aveva iniziato ad annodarsi dentro di lei e che andava strappato prima che potesse diventare un'arteria che avrebbe sanguinato se recisa Vivian voltò all'angolo e vide Arthur pedalare sulla bicicletta che Frank gli aveva regalato a Natale Grace lo rincorreva le mani sul portapacchi per tenere in equilibrio il fratello ancora insicuro lasciami ce la faccio gridò Arthur lasciami Grace sono capace Vivian si fermò dall'altra parte della strada sorridendo nel vedere il bambino sbandare per poi ritrovare stabilità Grace ansimando portò le mani attorno alla bocca vai piano Artie urlò se cadi mamma dirà che è colpa mia non cado guarda guardami vado da solo Arthur si voltò verso Grace nel sorriso i vuoti lasciati dai denti che erano caduti nelle settimane precedenti compose un otto sull'erba del prato e Vivian sfilò la macchina fotografica dalla borsa abbassando lo sguardo verso il pozzetto mentre il bambino presa sicurezza si avventurava fuori dal giardino sulla strada nessuno vide la giardinetta grigia sbucare dall'angolo ma tutti sentirono lo stridio dei freni e il rumore della bicicletta che si accartocciava sull'asfalto il signor Buster che fumava la pipa nel giardino accanto fu il primo ad accorrere il guidatore era rimasto impietrito le mani ancora artigliate al volante incredulo all'idea di aver appena investito un bambino presto tutte le porte delle case si aprirono compresa quella dei Warren Celia corse fuori si fece largo tra le persone che le mani premute sulla bocca si erano assiepate accanto ad Arthur riverso al suolo Celia cadde in ginocchio accanto a lui chiamate un'ambulanza fate presto gridò guardandosi attorno smarrita fu allora che i suoi occhi incrociarono quelli di Vivian che era rimasta ferma al lato opposto della strada inquadrando la scena con la roleyflex Celia grottò le sopracciglia e Vivian capì che si stava domandando cosa ci facesse lì in palata invece di accorrere e fare qualcosa qualsiasi cosa per Dio ma Vivian sapeva da sé che il suo contributo in quel momento sarebbe stato irrilevante l'ambulanza stava arrivando non c'era nient'altro che potesse fare misi a fuoco e scattò grazie a tutti